L'Abruzium Cosenza lavora quotidianamente, si prepara per essere protagonista del prossimo campionato di prima categoria. Siamo con il preparatore atletico della squadra Rosso Blu, Samuele Mazza. Allora, quanto sta lavorando la squadra, con quanto entusiasmo ha accettato la proposta dell'Abruzium? Benvenuto nello staff Rosso Blu. Grazie. Io ho accettato la proposta con tanto entusiasmo e voglia di fare. È una sfida anche per me, riuscire insieme a tutta la squadra a far raggiungere i risultati di tutta la squadra. La squadra ha iniziato questa sessione di precampionato al meglio, al meglio che poteva. I ragazzi sono in buone condizioni e devono ancora migliorare, ma l'intensità è elevatissima, l'impegno è altissimo da parte di tutti e l'impegno ovviamente anche da parte mia è al massimo per far sì che questa squadra possa raggiungere i risultati che merita. C'è anche un pizzico di tensione, immagino perché comunque hai alle dipendenze, tra virgolette, i giocatori che hanno calcato palcoscenici importanti, ma a quanto ho capito, nello spirito Abbruzium si stanno mettendo a disposizione con grande professionalità? No, no, tensione no, assolutamente. C'è sempre massima professionalità, massimo impegno. Quando c'è questo, a parte di tutti, i risultati arrivano, oppure se una persona ha raggiunto palcoscenici elevatissimi oppure no. L'importante è raggiungere l'obiettivo, da parte mia ovviamente faccio il mio lavoro, i ragazzi fanno il loro e se riusciamo insieme in sinergia a fare un ottimo lavoro. La squadra c'è, è con me, è col mister e si sta facendo un buon lavoro. Quanto è importante che ci sia questa coesione? Sarà un campionato duro? Abbruzium vuole andare a tutta velocità sin dall'inizio. Come hai programmato questa preparazione per il campionato? Come si svilupperà? Guarda, io mi ispiro tantissimo alle preparazioni atletiche che fanno magari i miei colleghi più esperti, quindi quelli che possono essere i preparatori atleti dell'Atalanta, quale per esempio il grandissimo Jens Banksbo, che è un preparatore d'eccellenza, tra i migliori al mondo, diceva sempre che la sinergia con i giocatori è la parte essenziale, quindi a livello mentale, se non c'è il giocatore a livello mentale, non c'è a livello fisico e così via. Ragion per cui prima bisogna lavorare sulla preparazione a livello cognitivo e poi sulla preparazione a livello motorio. Quando si fanno queste due cose insieme e ci si diverso per tutto mentre lo si fa, allora lì si raggiunge sicuramente l'obiettivo.